Sceglievano imprenditori o persone benestanti, tutti incensurati. Con loro facevano affari ed operavano per tutta la campania. Secondo gli inquirenti hanno accumulato beni di varia genere, pur dichiarando al fisco poco e niente. Ma la Guardia di Finanza di Salerno era già su di loro da diversi mesi e così ieri il Tribunale della misura di prevenzione di Salerno su ordine della DDA ha emesso due decreti di sequestro per confisca per i beni riconducibili al clan Fabrocino per un valore di circa 13 milioni di euro. Sono indagati e quindi destinatari del provvedimento Francesco Antonio Fabrocino, nipote di Mario Fabrocino e Antonio Piccirillo, ritenuto presso nome del primo entrambi pluripregiudicati e già sottoposti rispettivamente a misure cautelari di tipo custodiale. Il clan Fabrocino da 40 anni domina gli affari criminali del Nolano e del Vesuviano e ha ramificazioni imprenditoriali nel Salernitano. La finanza ha sequestrato 9 aziende, 53 appartamenti, 4 villini, 17 garage, 8 appezzamenti di terra, 16 partecipazioni a società di capitali. I principali affari gestiti le due erano nel settore immobiliare e nella grande distribuzione di prodotti alimentari di marca. Le indagini hanno portato ad individuare 8 persone, tutte indagate per interposizione fittizia di beni che tra il 2004 e il 2010 hanno lavorato per il Fabrocino. L'attenzione degli inquirenti in questo periodo di crisi economica e semi-lockdown si sta concentrando anche su ingenti movimenti di capitali verso il Cilento e quelle zone turistiche che soffrono per la mancanza di turisti. Qui è più facile che consorterie criminali anche di altre regioni d'Italia possono inserirsi negli affari rilevando aziende in crisi.